Non sarà un Natale come gli anni passati, anche per il settore enologico le festività saranno sotto il segno della crisi del virus. I produttori di Cerveteri sono fortemente preoccupati e se non saranno riaperti i ristoranti la sera, dove maggiore il consumo di vino, per molte aziende produttrici si profila una stagione con gravi perdite. A determinare la crisi delle cantine che ospitano i turisti per tour enogastronomici, sono l'assenza dei croceristi che sbarcano nella vicina Civitavecchia. Abbiamo avuto mediamente dai 5.000 ai 6.000 passaggi presso la nostra azienda con i croceristi del porto di Civitavecchia, e non solo, perché venivano anche dei privati, anche turisti semplici, con la propria auto. Ovviamente quello si è tutto azzerato, quindi oggi è veramente difficile. Il duro impatto sul calo delle vendite sta mettendo a rischio il futuro di molte aziende, ha detto Milozzi della CIA di Roma. Siamo fiduciosi sul nuovo DPCM, i ristoranti aperti la sera sono fondamentali per riprendere il mercato delle vendite. C'eravamo ripresi nei mesi estivi con i locali sul litorale, ora siamo ritornati a marzo. L'appello ai consumatori è di acquistare prodotti locali per dare forza alle imprese, ha concluso Milozzi.